hashtag noi amiamo gli animali il nuovo gatto si nasconde in casa cosa sapere non sempre lo fa solo per difendere la sua privacy o per riposare poiché potrebbe farlo anche per altri motivi quando entra in una nuova famiglia in questo nuovo video pensato per voi da noi di amore a quattro zampe scopriremo perché il nuovo gatto si nasconde in casa non è raro che un micio appena arrivato cerchi il suo posto isolato in casa per nascondersi dal trambusto della sua nuova abitazione infatti se per noi il suo arrivo è un momento di gioia pura in lui potrebbe scatenare anche paure e traumi non è sempre colpa nostra ma micio potrebbe avere delle difficoltà ad adattarsi almeno all'inizio potrebbe aver bisogno di tempo e di comprensione da parte di tutti per trovare il suo equilibrio nella nuova famiglia il felino ha bisogno di solitudine per imparare a socializzare e costruire rapporti con gli umani e altri eventuali animali che abiteranno con lui un'altra causa del suo volersi nascondere in casa potrebbe essere un trauma passato che lo inibisce e gli fa provare paura verso gli altri esseri umani è assolutamente sbagliato forzarlo ad uscire dal suo nascondiglio anzi cerchiamo di rendere l'ambiente intorno a lui sereno e rilassato per invogliarlo a stare con noi utilizziamo un tono di voce pacato e siamo sempre pronti a coccolarlo se vorrà per questo video è proprio tutto se volete saperne ancora di più sul perché il gatto nuovo si nasconde in casa cliccate sul link dell'articolo corrispondente ma non solo volete maggiori approfondimenti scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto e il vostro gatto ha cercato nascondigli nella sua nuova casa appena arrivato fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zampe ciao ciao